buonasera bentornati sul canale di prizio siamo in compagnia di the wasteland pronti a finire hello hello portare a termine forse under dapso fear molto molto bene eccoci allora senti ti voglio ti voglio chiedere se ti va di giocare perché mi tremano un po le mani ho la mano o la mano tremolante signor tremolanti bus dove siamo in un posto di merda ovviamente siamo a shitland siamo chiaramente indiscutibilmente a shitland nella fattispecie in quella sequenza dove noi dove tu ora raccogli la pistola e mo devi fare annanze andrea tra l'acqua e uno sparato si vabbè tanto secondo me questa pistola non serve assolutamente a nulla ai quattro colpi ma l'unica cosa secondo me che devi fare ricordarti dove questa stanza triggerare il lungagnone tornare indietro nasconderti no anche quasi e aspettare si ho capito e questo è l'iter quindi converrebbe non andare avanti finché non si trova un letto dove correre indietro aspettare con somma pazienza diciamo il traffico dell'ungagnonico e poi risbucare come un ratto vediamo quindi ora risbuco come un ratto dove cazzo bisogna andare come si apriano le porte ma devi solo premere avanti vedi che già c'è un suono di interazione esatto quando fa pop 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 non si apre provare tutte ma qui siamo fottuti praticamente ah ok faccio io uno screen si aspetta un attimo vai che suona no no quello è un trigger posizionale non è temporale secondo me poi posso essere posso essere smentibile ovviamente fatto fatto sì come cazzo esco da qua non mi ricordo left mouse button qui ci sono dei cessos a corra indietro cerino e una di queste sì good good proprio tu non esisti proprio se stai qua sotto puoi uscire io credo i believe una porta per volta con santa pazienza questa si apre questo è un altro questo è il nascondiglio di questo di questa tornata mancated to the left to the right ah la chiave deve stare in qualche attaccavanni prizio qualche attaccavanni di qualche panna puerta si 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 guardi un attimo ah eccole no c'è stata una variazione sul tema perché il gioco offre un gameplay estremamente vario facciamo ci proviamo si butti si butti vada non siamo ancora arrivati alla parte che ci mise davvero in difficoltà mo piano piano cercati no eh appiccio la vocerina fai bene ad andare nel porto sicuro io credo che comunque tu ti stia bruciando piano piano i vari trigger e quindi tu di fatto poi stia avanzando perché non si ritriggereramo che ci ripassi or dunque e per dincibacco ok questa era la porta ci dobbiamo pure muovere si anche se io non ho capito eh se allora aspetta fammi leggere FDEC FDEC 22 allora qui questa era quella che non si apriva qua c'è un altro trigger e questo è pericoloso perché non trovo non troviamo dove nasconderci vedi che ci sta qua ah questo si sposta questo si sposta e c'è il dedo della bomba come cazzo si spostava? eh con maiuscolo control tab l'hai presa? si eh questo è il problema cerino ma io ora non mi ricordo qua qua a destra qua a destra e se entrasse no mannaggia vai continua continua a tp e ti becca tanto vale correre se non sei sotto uno di quei letti ti verrà in faccia no non si capisce niente allora che pavolo prego se si potessero almeno chiudere le porte dove siamo stati e che non servono no ma guarda se posso dire poi stai giocando tu quindi non è molto più stupido di così cioè quello non è un vero nemico che ti sta inseguendo il giochino è nasconditi sotto i letti punto cioè non so neanche se le porte li fermano capito? ma dico per fare backtracking perché è tutto uguale allora secondo me lì è tutto uguale secondo me lì esplora si lo è esplorando un po' Meglio le chiavi esplorando un pochino meglio a parte che c'è un cerino da qualche parte mo si triggerà il secondo evento appena arrivi in fondo tac no wow ok questo è il letto questa è chiusa non è vero ah e noi qua siamo mai entrati si ed era vuoto si si in fondo a sinistra 22 via in fondo a sinistra dove sta la lucina vai ffff Scusa ma ora qui non c'è un letto È possibile No ci deve stare per forza Sì sì lo dobbiamo solo trovare Qua si mette la bomba Non so per quale logica Per spostare un comodino qua Ci vuole la bomba Dai Madonna mia Che palle Ma come si spostava questa armatia No deve uscire il tasto Di cazzo L'ho preso no Sì Dov'era questo A sinistra C'è un inventario No Voglio aspettare il trigger Mi sa che è locale Cioè devi premere un tasto Tu coi piedi camminandoci sopra Temo Metta bomba Eccolo qua Sinistra Si spegna la luce Cerino Non ce ne abbiamo più Ma fanculo Non vedo un cazzo Questo Posso stunnarlo all'infinito No Avanza comunque C'è una porta Prova a entrarci No No Allora Allora È fondamentale trovare quei cerini Comunque ho sbagliato Sì Non sono ignorabili Ahimè Allora Io cerco di andare Una perseca Più piano Sapendo che Qui c'è il primo trigger Sotto i letti o i tavoli Letti o tavoli Aspettiamolo Poche pacienza Allora Questa l'abbiamo fatta Questa l'abbiamo fatta Questa l'abbiamo fatta Questa la facciamo Questa la facciamo Ok Chiave E Zona sicura Triggero Non si triggera Si triggera qua Buono Ah questa è la famosa Ok E dove siamo arrivati Per così dire Qua ci sta Qua è chiuso E qua ci sta La combinazione Triggerati Ok Come Sinistra Sinistra No No Era quella prima Calma vai Molto ingiusto Sovravviveremo Sovravvivremo Pizio Dobbiamo solo Siamo Siamo troppo Siamo sovraconvinti Ma che me ne faccio Questa pistola Io niente Io non ci credo Che mi serve a qualcosa La pistola E che Mi sto rendendo la vita Difficile Perché non sto usando La pistola Perché io l'ho vista Rallentare Gian culoschi Qua E' inutile Si ma al buio Come lo rallenti Capito Quando non vedi un cazzo No Servono questi Quattro cerini E bisogna usarli In modo scientifico D'altronde Te li hanno messi Lì Questa è una parte Che non si fa Con fretta Si fa con un pizzico Di metodo Allora Chiusa Chiusa Tu hai una memoria Migliore Tutte chiuse Queste sono Qua c'è la chiave La chiave Tanto Fra poco Ce la ricorderemo A memoria Allora Qua non c'era nulla C'era solo Il fatto dei codici E qui Fra poco Noi già abbiamo Esatto Questa come backup Questo è il nostro Backup E prima del cancello Ok Io sono andato oltre Si 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 E sono finito qua E poi sono andato qua E ci sono arrivato Troppo tardi Qui Allora Io vorrei triggerarlo Il prima possibile Questo evento Ma secondo me Questo lo devo fare Ok Ok Non è a zona Allora È a tempo Potevo Sparagnarmelo Questo cerino Ecco l'acqua Che sale Tutto questo Si mette pure Per l'acqua Io lo devo ancora scoprire Se quest'acqua È veramente un Cioè se a un certo punto Affoghiamo No Sarebbe carino Se fosse Realistico Cioè se a un certo punto Si affogasse Qua c'è un altro Nascondiglio In tutto questo Questo è il nascondiglio Da prendere Il problema È che in un contesto Profondamente Labirintico Qua devi trovare Il pulsante Da premere Qua con la corsa Si sposta Giusto Mi è completamente Dimenticato Ok E qua Usa un fiammifero Non c'è problema No Sbagliato E mo Ok C'è un caricamento Teo grazie Salvataggio Salvato Si penso di sì Bella domanda Si Eeeh Ok Ah ci lanciamo ancora in più Merdonic situation Qui vedo Si Facciamo sempre lo stesso Giochino di corsa Un idiota Pico Mi auguro Mi auguro di no Mi auguro Queste porte Non sono neanche interagibili Io credo di dovermi lanciare Nel Mi racconti di thompson Mi racconti di thompson Che baffi che ho Primo ricordo di thompson Sono i baffi Sono i baffi chiaramente E data E data la confidenza Che ci lega Sono i ricordi Dei baffi Che prevalgono Vabbè Che succede Vedi Appare qualcosa Per caso Oltre Ah vedi No non lo vedo Vedo il No Vedo solo il E la porta No che cazzo è Hai visto che appare qualcosa Potrebbe essere un bug Eh Potrebbe essere un bug Anche perché compare Per una frazione di secondo Eh Di nuovo Ma appare sempre in un posto diverso Un bug allora È un bug È un bug Fine No perché io qua Ho finito Non c'è niente qua Bene Era un bonus Questa Ok Mi devo Per mero caso Qua da dove veniamo Cioè dal nulla Ah no Da delle sca E mi devo lanciare nel buio Qua il nulla Era chiuso qui Qua c'è una lettera Word office Aspetta Oggi sono a scrivere Della tragedia Che ha colpito Il mio ormai defunto figlio Il soldato Alfred Clark Dopo diverse emissive Devo ancora ricevere Informazioni ufficiali Relative alla sua Tremenda morte Nell'ultima comunicazione Che ho ricevuto Da mio figlio Mi informava Che il suo ultimo attacco Non avrebbe comportato Alcun rischio Attacco? Com'è possibile Che tutti questi giovani Siano allora periti In un attacco Così sicuro? Temo che il dolore Mi abbia consumata E vi imploro Semplicemente Di darmi una risposta Mi piace molto Fine? Altra cosa che non ci porta Realmente Diciamo A tutti Qui c'è un porten Chiusen Chiusen Queste non sono interagibili Carino Ok Quindi è vero Che non c'era un'uscita Sappiamo che Stiamo affondando Miei cari amici Versi generic Io credo Ragionevolmente Di stare Esplorando Anche se Di fretta Anche se Frettolosamente Con una certa Perizia Sì sì Ma è un Walking simulator Esatto Sei una madre Che piange Per il Figlio morto Clark Sì sì Ma non posso Neanche camminare Oltre Sono bloccato qua Devo evidentemente Assistere a qualcosa Per avanzare Io spero di non essere Alexander E a questo punto Vorrei Anche Sì Storpioni Lei è Storpioni Hai visto Ti hanno messo I suoi Ti mettono I suoni Per farti girare Storpioni E il cognome Ovviamente Continua A non poter Proseguire Io credo Di dover andare Di qui Sai Non ne sono Sicuro Sì ma Qua la Sezzanella Sembra Finita Cioè Non posso Continuare C'è un muro Invisibile Valuto Altre possibilità È cambiato L'ambiente Intorno a me Questa porta Si è aperta Questa porta Si è aperta Vai vai Alexander Sei tu? No Diventare dritto? Si è proprio Porco dio Dov'è l'acqua Eh ci credo Che dobbiamo muoverci Ma io sono Preso da una disperazione Ok Madonna mia Ragazze Vai Stai andando bene Finistra Vai c'è un Mamozio Vai Segui il Mamozio Che sponda le porte Per te Finistra Cesso Ah Grazie No No Solo texture Sbagliate Ci pensi Se inizi ad entrare L'acqua pure qui Che è inferno Eccola qua Mamma mia Sono tornati indietro No Vai vai C'è Mamozien Mamozien Vuol dire Che non ci sono Porte da Dove Di qui Che cazzo Devo andare Cioè La porta Se mi è aperta Io non posso Entrare Qua Non posso Andare Qui c'è Il nulla Cosmico Anche se Posso Attraversare Questa È chiusa E Che sto Sbagliando Non lo so Convieni Con me Ha detto Di qui Ma Mo Affogo Qua secondo me Si affoga Davvero No ma Io l'ho visto Correre Di qui Ora Ora Passa ora Dove Di là Di là Sinistra Destra Destra Passa ora Vai che si è allagato E mica si può Crouch Non puoi spostare Una panca Una cosa Sott'acqua Eh prizio io ci appizzo È una delle cose Più brutte Come sensazione Dico Ma Non so come fare È poco chiaro Comunque È molto poco chiaro Cioè io seguo un personaggio Che sta scappando La porta è barricata Eh ma il punto è che Forse è barricata È semi aperta E io non posso Passarci Eh sono morto Muertos Allora si muore per acqua E il problema è che C'è qualcosa Che non abbiamo considerato This way This way Allora This way Mo lo vedo Sgattaiolare A me dice di qua Ma puoi spingere Ste Punk Secondo me sono queste No sono fisso Ste Punk Beh almeno Ci fa caricare Dove dobbiamo Ma la cosa assurda È che pure di qua Non ci fa andare Non salti Non fai niente No non si può saltare Sono d'accordo Che la strada È questa Quando si è liberata Non mi faceva entrare Manco in crouch Stai pronto Ora Niente Crouch Zero Ma no Perché sono sempre Inchiodato a terra Io L'acqua sale Ma non Non galleggi però Io non galleggio C'ho i piedi di piombo Capito Ma guarda in alto Sta una ventola Una cosa Questo tubo Ora qua sotto Niente È sempre inchiodato a terra Vedi No ma Non vai avanti È zero No 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 ma allora Boh Oh non è qua O c'è un'interazione Che non vediamo Ma io non manco più La pistola Cioè Niente C'è qualcosa qua Che non vedo Ma muoio Ma tanto vale Direi Aiuto Temi la morte per acqua Lui va di qua Peraltro gira a destra No è quella porta Questa E' questa Stronzata Io vedo Uno va in una direzione Devo andare In un'altra D'altra parte Comunque ti devi basare Da dove arriva l'acqua Devi andare Alla direzione opposta Questo è il concetto Là è l'uscita Eh Valesse Questa Ci sta sempre Qualcosa Che non vediamo Sicuro Un condotto Questa è la triste fine Di Alexander Lui voleva solo Aprire le porte Ma il gioco Gli fa aprire Ah Questa No ma non è davanti a nulla Io voglio sparare Prizio Che è successo Impossibile Questa è la Peraltro Ti giuro Guarda Se avessi paura Di annegare Che è una fobia Abbastanza diffusa Questo gioco Non lo puoi giocare Una cosa Di un claustrofobico Indecoroso Dove è a sinistra Ma non serve proprio Quello gira a destra Capito Quella lotta E mo Devi correre Sto correndo Cosa hai fatto in più Nulla Allora uno Porta numero uno Guarda bene le stanze però Perché magari c'è un Punicolo a terra Capito Un cazzo Porta numero due Soprattutto nella prima Che si è allagata Qua a sinistra Che già stiamo perdendo terreno Guarda dietro a suo tavolo Qua a suo mobile Quella cassa panca Vedi Chiave La prima cosa Che si allaga Vai Destra per me Esatto Sinistra Paura Pezzo di merda Sono tornato qua Scommetti che devo andare Completamente da Non ci credo Sotto ai tavoli Sotto ai tavoli No no ma non credo Che stia andando Sto provando Sto provando Cioè preferisco Come dire una Sudden death Di questo tipo Per farti capire Che c'è una liquota Di trial and error E che ti devi fottere Non so cosa sto facendo Perfetto Sinistra Cassettiera Chiave di porta Tra l'altro Tra l'altro Ho già aperto Il cassetto Certo Ho già aperto Sinistra L'altra No esce Pancrazio Vai vai Oh non era una di queste Eh per forza L'abbiamo aperto Beh Capito Ho provato ad entrare qua Ma non è così Vedi qui Tanto di lì si muore Cioè stiamo per rivivere La stessa cosa A meno che il gioco Non giochi Ma c'è tutta un'animazione Qua dietro Capito Lo sentiamo Da qua dietro Per cui noi dobbiamo Solo assistere Ma ora rimuoviamo Capito Ora il mostro esce Secondo me Ma a lui Non a me Venga Che io non ho da fare Nulla qui Preparate a correre Finché non vai lì Non succede niente Fermi Bravo No Proprio Sì A destra Dovi andare Bravo E' la prima cosa Insomma Che Alexandre Ci dica un po' Alexandre E' la prima cosa Che Poco smasso davanti Camminiamo un po' così per fare Atmosfera Saremo Ci stiamo avviando secondo me Verso il finale Perché cavolo penso di si 30 secondi per una cosa da sorsiggere Prego Anche io mi alzo Allora un attimo Metto pausa Profitto Eccomi Ecco qua Una felce Una croce Di farmaci Motocchiattis Un Vendilatore Una scala Sotto un'altra scala Con delle colonne fantastiche Delle colonne fantastiche Nostre poderosissime mani Vai 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 No no sto fermo qui No vai un po' tu Tanto ci siamo Spacchiamocelo questa Sanjucubu sei tu? Ti prego dimmi che tutto è chiuso Ma cos'è un loop? Cos'è? No è un Un È un oceano È un lake È una spiral È una spiral È una spiral Stamattina Non ricordo più Niente Sta per arrivare Tra poco Insomma Più o meno Arriverà il prossimo Ultimo dlc Alan Wake 2 Ok E a detta di remedi Sarà L'episodio più commovente Di tutta la saga Di Alan Wake Perché Sam Lake si scopa Alan Wake Che si scopre essere Sam Lake Ora dobbiamo capire Si scopa se stesso Che cosa intende Sam Lake Per commovente Secondo i nuovi canoni estetici Di Sam Lake Allora se non ho capito male Ci mancano delle chiavi Ci manca una chiave Il problema è che io non vedo Una porta aprirsi E la struttura di questo livello È fatta in modo proprio Io non so la testa e la coda Di questi corridoi Si ma è di un pigros Proprio Eh si Perché le porte sono tutte chiuse Il tile è lo stesso Quindi avevo incollato i tile Io qui non Posso solo contemplare Allora finora le chiavi sono spawnate Dentro i cassettoni Sugli attaccapanni E sui comodini Andiamo piano piano Io proverei questo corridoio Ehi Fatti prima tutto sto corridoio C'è sicuramente qualcosa Che ti sei perso Nel labirintos Questa è la porta Che ha bisogno di una chiave Non è manco un numero Ma almeno mettiamoci 612 No? No Già mai Già me Grazie Ora mi sento molto meglio Ti piglia pure per il culo Capito? Ti per chi lavora Non c'è niente qua Puoi anche spendere un cerino Se vuoi assicurartene Non succede niente Assolutamente niente Basta che non avviasci l'acqua Stiamo tornando indietro? Oh mamma santissima Per me Indietro avanti È totalmente insignificante In questo contesto E se dovevo capire qualcosa Non l'ho capita Sono d'accordo Si vede attraverso quella porta Si aprirà Oh mamma santissima Di qua siamo venuti Qua dove dobbiamo iniziare? Caro 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 Pasolini Come si suol Come si suol dire No Non ci pensare Proprio No andiamo con ordine Allora Prizio facciamo Se ti va La regolina del labirinto Famosa Si Quindi marca O tutto a sinistra O tutto a destra In modo Come dire Cieco e villano E dovresti accedere Ad ogni singola porta Di questo posto Si no ma io credo Di averla mappata La situazione Però E allora C'è qualcosa Di pensiero laterale Da fare Anche se Questo gioco C'ha la cazzimma E anche Come dire L'ingenuità Perché non si fa Così ovviamente Tu dai delle regole Ai Ai giocatori E poi Vari All'interno di quelle regole Non cambi completamente Le regole del mondo E del gioco E il gioco Purtroppo ci sorprende Quindi non vorrei capito Che mo Tu qua hai trovato Già qualcosa Giusto Si c'erano i fiammiferi I fiammiferi Oh Ecco qua Chiave Molto grave Anche perché Tutta questa cosa Enorme Infinita E folle Ah non è lei Tutta questa cosa Infinita E Trova la chiave Apri la porta Ma che stronzata Hai fatto frittata Hai fatto frittata Di stronzata Eh si Perché capito Io faccio Un gigantesco Labirinto Del minotauro Per avere Tutte le porte chiuse Avere una porta Che si apre Con una chiave E una porta chiusa Da aprire Che non è manco quella Quindi ci saranno Due porte da aprire Mi sembra una follia Alla paranorma L'Hong Kong Questa Cioè non fa No no Io lo ripeto Lo ripeto Paranorma L'Hong Kong Aspetta No Complessivamente È un gioco superiore Ma credo anche Con un altro bagno Non è un tripla Ma Are you stupid? Cioè la porta è questa Per Aprire un cassetto E trovare un'altra chiave Cerca bene là dentro Vedi se hai preso tutto Prizzo Ho fatto saltare dalla paura Hai cambiato tono Scusa sono diventato Molto serio Dico Pensavo fosse il mostro Il monstrum No dai Basta Per ascoltare un disco Chiaro no? Per ascoltare un disco Capito? Scusa è un gioco Per ascoltare un'altra chiave Sarà 12 Sarà 12 il numero Ma non posso nemmeno Sarà 12 la combinazione Vincente Mamma mia Veri Enigmios Alla volta E certo si sale sempre di più no? Vabbè questo ha una sua logica ovviamente Con la musica incalzante dell'Enigmios Slide per proiettore di Enigmios Vedi che scala è? Te Te Ti carica e sarà in un altro posto adesso No no togli quest'asset Noi non l'abbiamo pagato No è bullio Ma perché sono lentissimo? Perché questa è la magistrale sequenza finale Wasteland È la sequenza cinematic Quindi sei lento come la merda È inutile pure che ci provi Guarda Ci sono le voci Segui la luce Pyramid Pti Chi vuol capir capisca Chi vuol capir capisca Chi vuol capir capisca Chi vuol capir capisce Chi première lei mi scusi Harry The Zone Boss Siamo terrorizzati Bene Nota bene Il saluto d'Alexandre sarà sottoposto alla procedura Del secondo life act Stare presunto di aver raccomandato durante le allegazioni Se i risultati saranno positivi Trasformando quindi il suo atteggiamento L'esecuzione verrà annullata L'esecuzione rimarrà valida nel caso in cui la terapia del second life act Non venga completata Quindi tutto quello che stiamo vivendo Sarebbe il secondo life act? Attenzione C'è un puzzettamento Siamo ancora Ne affondando però Perché io vedo Una qual certa diagonalità Mi sono divertito moltissimo Ad aprire le porte in questo gioco Nooo No 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 non voglio Non mi interessa Non voglio proprio fare niente Nooo Che merda No è che Erano così orgogliosi di quella parte Di gameplay che hanno detto Facciamolo due volte uguale Dopo un totto Così prima si rilassano un poco E poi se lo prendono Ne dritti nello sfintere Come un cactus Non mi piace proprio questa cosa Non mi piace proprio questa cosa Veramente la odio questa Cioè non ci ritrovo Incatasti solo tu in una trap Questo è molto semplice Devi andare in fondo al corridoio E poi a sinistra Eccolo qua Dritto Cerino Almeno fammelo vedere Passare attraverso la porta Qualcosa Si scorda proprio Della tua esistenza Appena ti metti sotto il tavolo Capito? Cioè non c'è neanche la tensione Di vedere un nemico passare Capito? È una cosa Di una meccanicità Via Allora Questo è il prossimo checkpoint Via chiave Via cosa Ecco qua Piano E qualche porta prima Memorizza dove sta il checkpoint Qua Bravo Prizio Posso dire bravissimo Perché? Ah beh perché Se invece di scappare Meccanicamente A quello dietro di te Ti ricordavi Che ne avevi uno davanti Io Non mi sarei già più ritrovato Dai guadagniamo tempo Oh mamma mia Tiro tutto cosa Non so cosa è successo Cerca di capirlo Magari Ah Ora devi scappare Un'ultima volta A privare Non trovo a fare Serve una leva Sfonda Sfonda Che è qua caricamento no siamo seri? eeeh vedi se dentro a sti cosi ci sta una chiave secondo me già non ti insegue più è solo questa aperta volevo solo assicurarmi che non ci fosse una chiave nelle credenze cioè che le credenze siano tutte per... no no ora si aprono tutti i cassetti però ora si aprono tutti i cassetti o forse si sono sempre aperti e noi non abbiamo mai visto le interazioni? no 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 questo addirittura da lontano si è visto gli ammiferi vanno sempre comodo non c'è allora madonna mia aspetta dio buono dio buono aspetta un attimo Brizio muovere tutto a posto sai con la foto tanto sanno qua le porte sicuro prego questi sono i doc invece quelle che lettera era questi sono i doc? no scusa sempre me la aveva e D comunque quelle è A comunque ok A e D ok allora ce ne ho davanti A e D stronzato stronzato che cosa è morto? non l'abbiamo visto ci sarà aperta una porta con l'acqua vaffanculo lo prende il culo ma devi scendere tutto chiuso qua si eh? si niente si apriva vero? niente si apriva chiudo e subito a destra ci sono i cerini chiudo fine giusto? si allora mi gusta mucho a me i codici ce li abbiamo bailare il cia 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 vorrei capire come sei morto questi schedari sono per bellezza? un dos tres mi piace il fresco vorrei solo capire come sei morto D7 allora ti dico già che D7 è 25 morirai? io vedo solo D7 qua 25 c'era una bomba? si è triggerato in anticipo questo sei in un altro posto? no è per qui da lì io corro e che stronzata ha fatto la frittata poi devi fare tutto il giro per scendere perché c'è la porta aperta che ti impedisce di andare subito a sinistra certo cerino non puoi mai sapere haza wiki haza wazza bliki 26 25 ma non serve vederli secondo me non so mai sapere wasteland e c'hai ragione che hai detto allora? te lo ricontrollo per sicurezza 25 25 e poi vai subito a sinistra eludendo tutto trial and error anche questa parte è una merda per me nel senso che mi devi motivare il trial and error cioè lui deve avere una colpa questo si chiama arnoldo stronzoni il ragazzo che ha fatto questo gioco niente eh agility 25 sinistra sinistra poi dobbiamo annullare l'evento precedente fermo e ma comunque c'è il tempo wasteland piccio da lucerina ma io mi chiudo qua dentro per cosa? per seppellirti maronna mia dai non puoi dire vado non puoi dire che io sia stato particolarmente più fortunato eh no no dato che mi sono beccato il gioco che non lo capisco cioè lo capisco non è che non lo capisco ma è sì ma non lo capisco è una scelta veramente non lo so perciò un bambino no pensa si apre la porta di qua io devo fare tutto il giro sì è come se il gioco ti facesse i dispetti anche immagino che a questa gente piaccia Outlast piaccia Amnesia ma non l'hanno studiato bene per carità però da Storia che poi le cose mi piacciono un po' troppe cose a dire il vero eh le cose a volte sembrano così semplici no prendi Outlast la corre e basta eba fallo che funziona qua bisogna trovare la chiave prima che esplode tutto io voglio trovare questa a destra bisogna di una chiave giusto? mi attento che ora scoppia eh quella a destra eh scoppia tanto qua non c'è niente dovessi forse scansarmelo così provate ad aspettare tanto la porta si è in teoria morirei chiaramente cioè in teoria passa l'acqua qui io sono un uomo morto scusa accendi un cerino guarda caso mai sta una chiave guarda bene vaffanculo sono morto eh perché non me la fa prendere questo gioco sa di merda eh non riesco proprio a trovare cioè io lo voglio anche salvare capito non riesco proprio a trovare un modo capito per salvarlo un significato sì un significato un'ispirazione era partito bene comunque era partito bene assolutamente questo non glielo toglie nessuno cioè il primo il primo gameplay che abbiamo avuto modo di registrare dove si andava dove si andava mi sono distratto un attimo ah di qua ho ancora messo là il codice prima poi mi è scoppiata l'acqua senza che avessi aperto la porta sì ma anche questo caricamento è ridicolo eh sinistra cazzo qua pizio destra e ora non so più guidarti amico mio ma ora moriremo ancora e ancora sono tutte da sfondare indovina la puerta questa no sì invece vai fast vai pellicola no è collezionabile non ci serve eh ma non me lo dà vamos vamos Anton Julio ci vuole la chiave qui oddio grande Averes grande wasteland campione di Under Deeps of Fear bene benissimo la pistola no malissimo e quindi sfonda sfonda devo tornare indietro no io non so da sfondare questa non si fa niente devo tornare indietro con la pistola vero? non mi fa andare indietro bene bene è comunque un gioco di multiple scelte non si è mai fatto nel gioco non si è mai fatto nel gioco ok si è scansato inondazione la porta che porta nell'altra stanza a fianco la porta bellissimo guarda non posso più passare di qui no di qui no ah ora si spara ai lucchetti saliva io non immaginavo ci fosse tutta questa interazione comunque di 35 queste saranno le porte dell'uscita dai ci crediamo a volte faccio la cosa meno probabile e funziona oh mamma che faccio io prima di scendere ingenuo che sono tornato indietro ah devo tornare indietro? eh non so non so che dirti è l'unica chance? mi sembrerebbe tutto indicare questo l'ascensore l'hai preso l'aperto l'aperto non si prendono gli ascensori ma ma sto scendendo poi ma perché scendiamo D giusto? non me ne fa selezionare mi fa selezionare solo una giusto? sei sicuro? si va beh no capiamo però che è successo finisce qui la nostra avventura? eh ci credi vero che io ci sto provando? cosa? ma dove mi fa ripartire no vabbè no? no va bene va bene va bene 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 D35 che si trova sul deck D sul deck D e mo ci tocca no qua non si va no 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 quella era la strada ma non so cosa abbiamo sbagliato lì col mostro cazzeggiante spero di non starmi perdendo niente mi parevano tutte chiuse giusto? no erano tutte chiuse erano tutte chiuse vai dobbiamo tornare indietro perché? deck D D35 ma io con quel mostro come dovrei avere a che fare con questo tutto bloccato volontariamente Giam Burraschio Giam Burro Giam Burro e allora Giam Bruno dunque si va di qua ma forse chissà ma apri i cassetti sui cassetti no no è il solito bug vedi vai c'ho solo questo a disposizione ma non mi posso nascondere da nessuna parte quindi quando esco che faccio? attiva e corri all'ascensore corri ma è proprio chiuso eh preghi? prego ripremi? eh sto premendo c'è solo un'interazione possibile ora sono anche completamente al buio non muoio se adesso qua peraltro devo andare qui per morire anche questo me lo da selezionare e qua muoio ci vuole anche un po' per morire a quanto pare io ho lasciato proprio la tastiera eccolo qua che devo fare? che devo fare? no sono due via fottuto bravo sono stato bravissimo ma anche ma entra qua dentro? si si che entra sono morto due metri e quaranta eccolo entra col pene con penetra con penetra pronto a sodomizzarti tra l'altro gliel'ho pure gliel'ho pure messo in culo peraltro ma è stato completamente inutile ce l'ho anche umiliato proprio di fronte capito al pubblico ludibrio di youtube è stato è stato humiliated dopo anni e anni di bd frizio il problema strutturale è che non ho capito perché se avessi capito potremmo intentare un ragionamento cerchiamo di capire io credo siamo davanti a qualcosa di un po' grave cerchiamo di capire perché io torno indietro mo qui l'ambiente è cambiato siamo al buio e io devo chiamare l'ascensore no non ho un'altra possibilità giusto? pare di no io credevo ci fosse una sottospecie di indovinello che diciamo si esplica nel fatto che loro ti dicono di ripristinare una cosa che somiglia a ripristinare la corrente al deck D passengers door access di deck mid ma noi possiamo solo premere questa toglietemi una curiosità adesso noi siamo così chissà se l'acqua in questo ambiente arriva se io faccio questo mica mi fa risalire perché il gioco non è così tridimensionale ma poi perché questo è semplicemente quello che dovevo fare poi mi si chiude e a questo punto io non ho grosse chance se non provare a passare attraverso questa porta che ora si vede a stento cosa che ho provato a fare comunque qui non c'è nulla i soffitti non sono un elemento segnante perché me ne dai 4 peraltro? io so che se premo questa è una condanna a morte scusa ma questi cassetti sotto non si fa niente? questi cassetti sotto come puoi vedere niente sono non cioè se è un enigma ambientale io devo capire perché così alla cieca ha voglia restarci 8 ore questo non è più selezionabile diventa di nuovo selezionabile quando è chiuso peraltro questa leva una volta che l'ho tirata non mi fa tornare indietro Waze scusa guardate un po' il corridoio con un fiammifero perché il corridoio è la cosa più buia il solito nulla variegato di piccione sassu trap e merda le pareti color senape brutte in culo la porta non si sfonda vero? la porta non si sfonda è di quelle insfondabili ma è sempre bug no è sempre eh lo vedi guarda l'ho fatto una continuazione è vero è sempre quel bug vedi ci ha mandato al manicomio sto pensando eh non posso neanche chiuderlo dentro cioè le interazioni sono così poche che dovrebbe essere una cosa basilare che tu non mi dai nessuna interazione tutto quello che riesco a fare è chiudere questo non riuscire ad aprirlo scusa perché non torni lì magari devi aspettare che si accende che torna giù l'ascensore ma mai triggerato il mostro però non mi fa manco appicciare il cerino non mi fa manco appicciare il cerino è come se fossi già morto secondo me premi premi sto premendo se vuoi premo disperatamente finché non mi uccide eccolo si hai visto fuci era questa la cosa cioè devi essere forzato a subirti il jumpscare e fammi una cutscene poi perché dovrebbe essere salito si sali in automatico ma non dopo se sono veloce non sali in automatico cioè devi mettere quindi ora rifaccio tutto da capo devi tornare dove stavo prima cioè di qua dove abbi pazienza per scrupolo anche se sappiamo che funziona così io le bra e devi andare io ci devo credere sali sali si l'ha attivata l'ha attivata questa è la porta è la porta non posso correre oh amnesia the bunker sei tu edizioni al musso c'è un foglio un fogliotone sul muro cranorgate asylum alexander dopo che il paziente ha subito un tentativo fallito di second life act procedura il paziente è stato lasciato in uno stato di peggioramento delirio il paziente è stato scordato fuori dalla fondanta arms validus dopo essere stato trovato a cora e percorritori allagati in uno stato di squilibrato panico le delusioni includono visioni di membri il paziente è particolarmente pericoloso solo se immerso stato febrile di delirio e io imbarrare un pochino di scrivere italiano magari che bella questa trincea in maggio non si debba fare niente se non va a fangulo questa trincea merdonica diciamo io me ne vado a cavi guarda se la famosa non ci vado verso il buio e ma agire infame aggiornamento riguardante il veterano come dice mi si deve spegnere il cerino così il signor d'acto ha mostrato piccoli segni chiaramente ha mostrato una teola mantenimento esatto il signore di canale di gm 15 17 sembra che ogni intervista produce le stesse identiche risposte con il paziente che afferma che rimane su questa nave tutti i giorni il paziente descriverà il progetto dal momento in cui si svegliano i reparti al momento in cui si trova lucido il manicomio il paziente descrive anche l'asilo attuale interviste per comparire nelle scelotte sulla nave che affonda sotto forma di registrazioni il paziente occasionalmente scivolerà dentro di vacazioni che sembrano essere rappresentative delle sue visioni le sue visioni sbettrali quindi finiamo in un manicomio ci ha spoilerato la fine del vediamo destra giusto seguo la musica un cadavere una parete di merda solida cos'era no aggiornamento riguardante il veterano segni di miglioramento sembra che ah no ci siamo già stati le sue visioni spettrali che ben gioco eh caro giocazza abbi pazienza la battaglia in combe battaglia sono tornata a rete vero sì sono tornata a rete cazzo destra il labirinto della fesseria va bene uso la mia strategia cazzo destra almeno se ti ha accesa la luce destra uso la mia strategia invincibile niente vada a destra continuiamo dritto ma io sto sempre costeggiando la destra questo è nuovo questo è roba caro office vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine per aver risparmiato la vita di nostro figlio Alexander Doctor dopo la sua viac esibizione in prima linea eravamo ammalati di preoccupazione per il suo destino durante questi tempi di guerra e tumulto perdere il nostro figlio ci distruggerebbe oltre questo mondo sempre grato ad affanculo io tengo sempre la destra e si potesse tutto l'universo uso la strada più lunga e più sicura finito il gioco siamo all'asilo no siamo di nuovo nella barchetta cazzarola farnesce chiostro il demonio il demonium si grazie grazie mille facci svegliare nel manicomio su ok se ci piace chissà dici tu c'era solo un gioco fatto male progettato in modo povero certo perché non rigiocherò questo gioco ma soprattutto noi non dovremo rivivere questa cosa quindi siamo un veterano finito in manicomio che rivive degli... si è tutta un'allucinazione punto è inutile andare dietro come spiegavo l'idea di una cosa figa che volevo fare allucination non mi levo dai coppia sono tutti in coma stava dolore si ritrova un coppa nave ebbè è un finale che non vuol dire niente perché non ci ha pensato l'ha fatto solo per dire... se posso dire credo che sia quasi l'inizio del gioco sia da dove iniziamo credo si vabbè riprendono i suoi incubi o gli incubi sono reali o gli incubi sono reali o gli incubi sono reali it's not a loop it's a spiral vaffanculo vabbè vabbè io voglio i titoli ah grazie certo in onore di tutti i morti della grande guerra c'è anche l'impegno sociale Nick Torchia grazie Nick Torchia per esserti impegnato e Levi Buchanan carino ma poteva essere più interessante peccato aveva una pill dagli screenshot che io mi ero immaginato diversamente io mi immaginavo un gioco radicalmente più semplice con uno stalker eccetera eccetera invece era un gioco narrativo inutilmente complesso e con evidenti limiti poi esecutivi come sempre inutilmente complesso con dei limiti esecutivi tutto sommato malcelati perché volevi fammi vedere seleziona capitolo ci sono i capitoli ah giusto sono le zone vabbè ce lo siamo fatti non lo rigiocheremo mai più credo in vita nostra credo sicuramente possiamo dire che Under Depths of Fear è un capitolo chiuso della nostra vita videoludica e quindi l'ennesimo se devi dire perché ormai la collezione inizia a diventare piuttosto corposa no e niente abbiamo fatto anche questo in questa capito merda nauta vabbè non niente abbiamo parlato già molto la volta scorsa in conclusione di questo gioco abbiamo parlato già molto la volta scorsa qua scendono un paio di voti anche un paio di punti paradossalmente la sezione finale è peggiore dell'inizio come gameplay si ma ci sono proprio delle cose strutturali allucinanti cioè cose di una pigrizia e di una stupidità sul finale che invece dovrebbe essere esplosivo coinvolgente più faticoso che ti dà maggiore soddisfazione quando arrivi alla fine ma io faccio come dire lancio un sassolino e faccio una provocazione no tu hai notato che in tutti questi piccoli giochi invece questi arrivano al finale e lo scagano sempre cioè quando si tratta di questi giochi fatti da 5-6 persone perché questi sono 5-6 persone il nucleo principale sono due tizi che ho visto che hanno fatto tutto poi di volta in volta in varie sezioni affiancati da da altra gente in tutto saranno 5-6 in tutti questi giochi che vanno dallo sviluppatore da solo ai 5-6 dalla seconda metà del gioco in poi il gioco cala tantissimo perché non sofferniscono le idee ferniscio tiempo uo fernio gioco te rutto cazza hai iniziato a fare un gioco e non ti hai reso conto di quanto era faticoso fare un gioco e quindi poi lo vuoi chiudere sì è vero e succede questo adesso non ti saprei dire esattamente i nomi però l'abbiamo notato tante volte dicendo che gli ultimi due livelli l'ha fatta così riciclando quattro stronzate d'altronde ricicla eh perché lui dopo che ha dopo che ha fatto il giochino dell'inseguimento sotto i letti ha smesso di inventare qualunque cosa addirittura ha fatto un'intera sezione un labirinto gigantesco con due porte aperte una con una chiave e una con una porta bellissime quella è stata quella è un capolavoro di cioè pur di allungare il brodo capito ha creato un'intera sezione della nave un labirinto senza senso speculare capito un inferno per aprire una porta trovare una chiave che apre una porta vabbè insomma va bene così Under Depths of Fear va bene così abbiamo visto di meglio e vedremo di peggio però esatto esatto questo cade casca un po' nel limbo dei dimenticabilissimi probabilmente non ci ricorderemo di questo gioco non ci ricorderemo vagamente l'assurdo labirinto come esempio stupido ma non come bellezza poco e niente forse il mostro si può darsi la prossima volta che troviamo un gioco con una chiave che apre una porta forse pensaremo ad Under Depths of Fear di cui non ci rimerderemo il titolo quello della nave esatto quello della nave col mostro lungo lungo il mostro lungone è carino però insomma infatti mi sarebbe piaciuto vedere di più il mostro lungone sì mi sarebbe piaciuto vedere un gioco più semplice con più lungo mostro ma è difficile fare i mostri la bestia con un minimo di intelligenza è difficile è una cosa che si gioca un secondo per mettere no che sai la verità perché poi il risultato è Anna Puerta d'altronde no vabbè dico solo questo poi anzi facciamo così fermiamo la registrazione chiudiamola va bene fermiamoci qui comunque poi dico magari quelli che guardano restano però il mio pensiero era andato Amnesia the Bunker fine è certo giocatevi Amnesia the Bunker esatto va bene allora chiudiamo la registrazione di Under Depths of Fear archiviato e via nella playlist degli horror goodbye signori goodbye musica